Vi auguro una dolce notte con questo messaggio. Potrebbe essere la persona giusta. Hai già incontrato il tuo partner che cerchi. Questa carta ti dice che hai già incontrato la persona che cerchi in amore. Magari hai già una relazione con lui o con lei. Gli angeli del cuore ti hanno inviato questa carta perché sembra che non hai riconosciuto questa persona o che non godi del suo pieno potenziale né di quello della relazione. A volte potresti trascurare la persona destinata a te perché hai un'idea diversa di come potrebbe sembrare o agire il tuo partner. Prenditi un momento per riflettere su chi potrebbe essere. Probabilmente si tratta della prima persona che ti viene in mente. Poi invita gli angeli del cuore a discendere nei tuoi sogni quando vai a dormire. Chiedi loro di darti informazioni molto chiare sul tuo partner sia nella relazione che stai vivendo che in quella futura. Nel sonno sei più aperto ai consigli degli angeli. Quando ti svegli potresti non ricordare i sogni che hai fatto ma avrai comunque un'idea più chiara dell'amore e della relazione di coppia. intraprendi qualsiasi azione verso la quale ti senti chiamato basata sulla tua guida interiore anche se ti sembra scollegata dalla tua vita sentimentale. Confida nel fatto che gli angeli ti stanno guidando verso la persona che tu desideri. Questo è il messaggio della buonanotte.